Ragazzi buongiorno, sono lo vostro 90 Sparrow e bentornati sul canale. Allora, SPC Gear ci ha mandato un sacco di prodotti che oggi proveremo con voi. SPC Gear è una ditta che produce accessori per gamers da alte prestazioni e basso costo. E in questo video parleremo delle cuffie con microfono da gaming Vero Plus. Siete pronti? Andiamo! Siete pronti? Ok ragazzi, sto registrando anche lo schermo, quindi possiamo giocare direttamente insieme. Io su YouTube non ho messo altro che Guess the Song. Scegliamone uno, 2010, anni 10 quiz. Questo mi ispira, questo mi ispira. Ok, allora, vi spiego semplicemente come si gioca. Io stoppo, vi scriverò su un foglietto quello che io provo a indovinare e ve lo mostrerò dopo che ha rivelato la canzone. Siamo pronti? Andiamo! Siamo pronti? Andiamo! Siamo pronti? Andiamo! Siamo pronti? Andiamo! E due! E due! Direi passo, direi passo. Provo a scriverne una ma direi che questa non ce l'ho. ammetto, questa è l'ho cannata. Hello! Hello! Sbagliata! Dai ragazzi, questo è facile, dai, cavolo. Vabbè, dai. Questa veramente anche mia nonna penso che la indovinava. Non mi sento parlare, raga, non mi sento parlare. Oh, questa la so, questa la so, questa la so. E siamo a quattro indovinate, raga, quattro. Oddio. So che canzone è, ma non so il titolo. Non so il titolo, raga. So la canzone, non so il titolo. Passo. Justin Bieber. Scusate, così per dire, sorry for your ears, è bellissimo. Vabbè, raga, raga, questa veramente... Forse ho stoppato troppo dopo. Dai, facile. Oh, ce l'ho. Raga, questa ce l'ho. Poi basta, le ultime, dai. Ho anche questa. Ho anche questa, raga. Mi deve venire in mente il titolo, come si chiama. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Mi è venuta in mente, raga, scusate. Ci ho messo un po', mi è venuta in mente. La scrivo qua dietro. Intanto ve la faccio ascoltare. Ragazzi, allora, se indovino questa, fermiamo qua il video, perché uomo-gatto, levati, ok? Ce l'ho. E sono sicuro, sicurissimo che sia quella. Se mi sbaglio, giuro, fermo qua il video, eh. E' quella, è quella, è quella. E' quella. E' quella. Ok, stoppiamo qua questo video. Mi sono divertito abbastanza. Se vi è piaciuto il format, scrivetemelo nei commenti. Lo rifacciamo, voglio farlo con le sigle dei film e dei cartoni animatic. è una cosa che ho in testa da anni e mi sento di riuscirci. Proverò, proveremo, se vi piacerà. Queste Viro Plus, vi lascio il link in descrizione, sono veramente fantastiche. Se volete un paio di cuffie economiche e molto, molto valide, andate su queste. Consigliate e promosse. Al prossimo video. Ciao!